Questa mattina ad Ancona la prima giornata dell'Internet Governance Forum Italia dedicato alla trasformazione digitale. L'evento organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche proseguirà anche domani. Sentiamo Gabriele Bonfiglioli. Metaverso, gestione dei dati, cybersicurezza, temi sempre più centrali ma che si scontrano con carenze di infrastrutture e competenze. Istituzioni e professionisti del digitale ne hanno discusso durante l'Internet Governance Forum Italia organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche. Si apriranno sbocchi di lavoro importanti su professioni nuove proprio sul digitale ecco perché università, scuole, associazioni di categoria debbono collaborare insieme. Una grande occasione che passa però dagli investimenti sulle infrastrutture. La sfida della digitalizzazione e della rete è un'opportunità che può in un modello come le Marche, dove ci sono tantissime piccole e medie imprese, darci una grande spinta e colmare quel gap infrastrutturale che non è facilmente colmabile in poco tempo. Un altro problema riguarda le professionalità. Bisogna ridurre il disallineamento tra la formazione e quelli che sono i profili che le imprese chiedono, i profili professionali. Oggi nell'ambito digitale non si trova una professione su due. Una soluzione può arrivare da una svolta nella formazione scolastica. In Italia al momento gli studenti ITS sarebbero gli istituti tecnici superiori post istituto professionale. In Italia ne abbiamo 20.000 iscritti contro 800.000 in Germania. Guardando al futuro per la Camera di Commercio la lista delle cose da fare è però ancora lunga. Banda larga più veloce possibile in tutte e quante le zone delle Marche, poter valorizzare al meglio con le università i nostri giovani sulle nuove tematiche, avere poi dopo delle politiche di governance su internet importanti che tutelano i dati delle nostre aziende.